Ciao ragazze, piccola review di una cosa che mi è arrivata oggi, stavolta parliamo di un libro che è questo Il Makeup by Marie Claire, l'ho preso per curiosità e devo dire che purtroppo l'ho sfogliato soltanto sommariamente però mi sembra abbastanza valido anche se non molto molto approfondito ve lo faccio vedere, vediamo se... è ricchissimo di foto, bellissime e parla un po' di tutto, dal look ai prodotti alle tecniche e alla fine c'è una parte che mi è piaciuta molto che è quella del Makeup Artist, da Bobbi Brown al Makeup Artist di Guerlain che ha un cognome impronunciabile ci sono i consigli su come truccarsi bene e in poco tempo devo dire che ad esempio questo, questo Makeup qui su Letizia Casta mi è piaciuto molto infatti spero di farlo presto e poi parla anche di pedicure, manicure e anche un po' d'arte ci sono anche delle cose un po' più particolari comunque il prezzo è 19,50 euro io l'ho preso su Ball sono 192 pagine non è molto approfondito nel senso che ad esempio aspettate per esempio sul blush come tecniche ci sono giusto le cose base ecco, è una pagina stessa cosa per il fondotinta, gli ombretti, correttori e basta, naturalmente all'inizio dell'introduzione c'è la forma del viso il tipo di carnagione che viene chiamato il mio capitale di bellezza la struttura del volto e queste cose qui quindi mi è sembrato abbastanza carino da consigliarvi c'è anche la parte su Armani i cosmetici di Armani alla fine e questo è tutto spero vi piaccia se qualcuna di voi già ce l'ha se vuole lasciare qualche commento guardate questa French che meraviglia si lo so che le foto sono ritoccate nessuno ha le mani così perfette però io vi saluto ci sentiamo presto ciao ciao